E' in corso il 27esimo livello di gioco al Ippo 13, 16 minuti e 50 al termine dello stesso, 43 giocatori ancora in pista a caccia della prima moneta da 105.000 euro, i bui sono 15.000-30.000, ante 3.000. L'everage è 935.813, qui c'è Antonio Bernardo che ha appena portato a casa un piatto importante e stai già facendo il conto delle cipo ovviamente. Eh sì, bisogna tenere il conto perché comunque i bui sono alti e quindi la gestione dello stack è la cosa più importante in questa fase del torneo. Quasi un milione l'everage, tu quanti ne hai adesso? Stavo dando un'occhiata a forse un milione e cento, un milione e due. E' stato un colpo importante, hai mostrato una copia tra i due e un bel bluff. Eh sì, ci ho provato, mi sembrava lo spot giusto e mi è andata bene. Ti lascio giocare perché vedo che siamo alla distribuzione delle carte, queste sono fasi importanti. Sono under the gun quindi ci tengo molto.